Allora Mirko, praticamente vi siete lasciati davanti a quel palo, tu e Perla, no? E come mai eravate entrati in crisi tu e la tua compagna? Da quanto stavate insieme Mirko? Allora noi eravamo fidanzati da cinque anni, quasi, quattro anni, però avevamo convissuto per parecchio, tre anni e mezzo. Sì, e come mai eravate in crisi quando siete entrati a Temptation? Siamo entrati a Temptation in crisi perché era diventata ad oggi, posso dire, una relazione tossica, nel senso entrambi avevamo messo da parte noi stessi, specialmente io, sicuramente per colpa della convivenza questo. Alla fine si trasformava la convivenza in una routine? Si era trasformata in abitudine ormai. Fatto sta che tu a Temptation l'avete persa in due, però hai perso insieme a Greta la testa per lei, no? E lei per te. E come è scattata, diciamo, lo vediamo alla foto di uno dei vostri baci che hanno appassionato milioni di telespettatori, no? Allora, voglio dire, come è nata, che cosa ha fatto scattare la passione tra voi due? Allora, con Greta è stata una, io la chiamo, una connessione mentale, è nato tutto gradualmente. Noi ci ritrovavamo in ogni pensiero, in ogni cosa. Tanto che poi appena uscito dalla casa, tutti sei, voi vi siete fatti un tatuaggio uguale? Sì. Sul braccio, cosa avete scritto sul vostro braccio? Eh, i tuoi occhi, la mia cura. Mamma mia, che romanticismo. Noi, 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 noi. Noi, 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 noi.